Chi ci tutela noi? Chi? 80 anni, 80 anni. Abita nel quartiere di Poderino a Fano da pochi anni, ma tanto sono bastati per fargli notare la radicale trasformazione che lo stesso quartiere ha subito negli ultimi tempi. Lui è Vittorio Meloni, ha 80 anni, è una cosa di cui non si capacita ancora, c'è. A Poderino sono venuti a mancare tutti i servizi, spiega i microfoni di Fano TV, soprattutto quello dei medici di base, non ce n'è uno in tutto il quartiere. E poi numerosi negozi che hanno chiuso e che costringono gli stessi abitanti della zona, anziani per la maggior parte, a doversi recare altrove per fare la spesa. Non c'è un medico di famiglia, capito? Questo grande rione, non c'è un medico. Poi, i pochi negozi che c'erano, alimentari, macelleria, rosticceria, non ci sono più, sono andati via. Il quartiere sta subendo appunto una trasformazione alquanto negativa. Quando sono venuto qua ho detto, ah che bello, che bello, che bello, invece non è così. Non ci sono parcheggi adeguati, non sono sufficienti. La popolazione stanziale, la popolazione che abita qui da tanti tanti anni, si è invecchiata. Allora, cosa deve fare? C'è una signora abbastanza giovane che accompagna me o mia moglie a seconda a fare la spesa. e diciamo, a questa qui sono fortunato perché me lo posso permettere. Quindi vado in un negozio, vado in un altro, a quelli che sono un pochino fuori, perché qui non ci sono. Quindi ci sentiamo fortunati perché ci aiuta questa ragazza. Lui che è una persona fragile non ci sta a dover assistere alla morte del quartiere in questo modo e lancia così un appello al comune. Voglio chiedere quello che manca. Prima di tutto i medici, perché per i medici è importante. Queste persone anziane non possono girare, giracchiare. Devono trovare un medico qui, sul posto, perché qui abbiamo anche la farmacia. Se il medico è qui, lavora anche di più la farmacia. Sono delle volte che bisogna ordinare e tornarci il giorno dopo.